Poca acqua, l'arrivo imminente del caldo e tanta preoccupazione per la crisi idrica che da qualche tempo affligge il Cilento. Questa è la situazione critica presente nel territorio a sud di Salerno, dove il serio problema dell'erogazione dell'acqua si fa sempre più grave. E sì, perché a causa della scarsità delle piogge invernali non si sono ripristinate le dotazioni idriche delle principali falde acquifere destinate all'erogazione idropotabile. E in assenza di consistenti precipitazioni piovose, la situazione è destinata ad aggravarsi con l'aumento delle temperature e dei flussi turistici. Ecco perché, al fine di conseguire il risparmio della risorsa idropotabile, CONSAC Gestioni Idriche ha momentaneamente deciso di bloccare, da fine mese, gli sbocchi pubblici nei 50 comuni cilentani. Presto dunque le fontane presenti nei centri abitati saranno chiuse, insieme agli impianti di irrigazione delle aiuole pubbliche che dovranno essere innaffiate con altri mezzi. CONSAC tenta quindi in questo modo di correre a ripari, in vista della stagione estiva. ASIS, invece, che gestisce circa 90 comuni tra il Cilento e altre aree del Salernitano, ha chiesto un incontro in prefettura con lo scopo di far proclamare lo stato di calamità. E intanto consiglia di procurarsi un serbatoio per avere una riserva idrica domestica e di usare l'acqua potabile solo per il consumo umano. Al momento comunque si pensa che le interruzioni potrebbero verificarsi solo nelle ore notturne. Nel frattempo però il caldo africano è alle porte e la crisi idrica è una minaccia che si fa sempre più concreta, specialmente per i centri dell'entroterra. Ma c'è chi, ironicamente o forse no, per far fronte all'allarme siccità, ha deciso di affidarsi a rimedi ultraterreni. E' il caso di Don Silvestro Zammarrelli, parroco di Sessa Cilento, che ha invitato i fedeli ad invocare l'intervento della provvidenza annunciando dall'altare che d'ora in avanti tutte le preghiere avranno lo scopo di far piovere.